il successo del martini live bar è dato da due fattori la musica che è universale e l'aver creato una piattaforma dove le persone potevano assistere a performance musicali in un momento così particolare siamo un brand che celebra i momenti di socialità e convivialità da sempre e la musica ne è una parte fondamentale e con questo progetto abbiamo unito entrambe le cose in modo virtuale ecco perché le persone hanno approzzato questo forma perché le persone vogliono uscire divertirsi e conoscersi e grazie a questo format siamo riusciti a far vivere una piccolissima parte di questi momenti in un evento di intrattenimento digitale la formazione in campo assegnato con saturnino pj johnson è stato fantastico mi sembrava una cosa super esclusiva io sono fermamente convinto che il martini live bar sia servito come come hub e come grande divulgatore di tutte quelle che sono le ultime tendenze musicali degli ultimi cinque anni più interessanti lo stile di clemente distona sulla fascia sinistra come leonardo spinazzola livello estremo è quello che penso fascia destra come mio fratello di lorenzo sound in anteprima conosce a george giorgio martini live bar è stato ed è una rivoluzione non solo come format musicale ma anche come progetto in un momento davvero difficile che ha saputo coinvolgere grandi artisti ieri sera abbiamo partecipato un grande evento con due big della musica italiana clementino e saturnino e siamo felici di averli ospitati in terrazza martini anche per celebrare leffi award che ci è stato consegnato la scorsa settimana siamo davvero orgogliosi che il martini live bar abbia riscosso così tanto successo in abba l'asta se in abba l'asta se in abba l'asta se